Non è ancora stato possibile quantificare il danno ed anche la vastità dell'incendio che nella mattinata di oggi, poco prima delle 10.30, ha interessato il Colle Bellaria a Salerno, noto ai cittadini come il Masso della Signora. Si tratta dell'area di Via Belvedere che costeggia la strada panoramica sulla quale, nei mesi scorsi, a novembre per la precisione, si erano anche verificati degli eventi franosi. Sul posto per domare l'incendio, i vigili del fuoco e i carabinieri del gruppo forestale che hanno effettuato anche diversi rilievi fotografici per comprendere meglio le cause che hanno innescato le fiamme, che hanno interessato la parte sottostante, l'area che ospita antenne e ripetitori televisivi sul Colle Bellaria. Proprio la vicinanza con la sede stradale ha reso particolarmente pericoloso l'incendio, non solo per le fiamme e il fumo che hanno interessato proprio la parte vicina alla strada, ma anche in una previsione futura, pensando ai possibili smottamenti che potrebbero essere conseguenza dell'incendio di oggi. Anche una squadra della protezione civile è intervenuta sul posto, l'incendio non ha interessato per fortuna abitazioni o messo in pericolo persone.